Bracciata dopo bracciata ha nuotato lungo il Po per tre chilometri e mezzo impiegandoci soltanto 50 minuti. Un'altra impresa natatoria per Carlo Mistraetti, il medico ecologo che nel pomeriggio di giovedì ha compiuto il tragitto dalla foce del Trebbia fino alla sede della società canottiere in Inobixio. All'arrivo lo hanno accolto amici e conoscenti entusiasti per la sua ennesima iniziativa dal sapore ambientalista. L'obiettivo delle sue attraversate del fiume, ripetute ormai da anni, è di sensibilizzare le istituzioni per tutelare le acque e il paesaggio del Po. Tra le sue proposte c'è l'idea di realizzare un'osi naturalistica nei pressi della Inobixio. Il messaggio è quello di rendere il Po rinaturato, cioè rendere il Po quello che deve essere, cioè non un disastro di inquinamento ma un luogo di bellezza, di sport, di balneazione, di pesca e soprattutto molti di noi proponrebbero di fare un'oasi naturalistica da oltre la foce del Trebbia a oltre l'Inobixio. A seguire Mistraletti nella sua notata, l'amico Francesco Molina e Stefano Scaglione, assiduo frequentatore del grande fiume da decenni. L'acqua l'ho trovata adesso più pulita, io sono da 30 anni che scendo il Po con la canoa, con il caiaco, con varie barche e quest'anno secondo me è più pulita, in questi ultimi anni è più pulita che di solito. È migliorata, un po' i depuratori, non ci sono più le discariche vicino ai fiumi, poi è migliorata, anche come rifiuti sulle rive ce ne sono molto meno.